I militari delle fiamme gialle della compagnia di Caltanissetta al termine di una articolata e complessa attività di verifica fiscale nei confronti di un soggetto economico sconosciuto al fisco operante nel settore dell'importazione del commercio e di prodotti ittici dalla Tunisia hanno scoperto una maxievasione da oltre 4,5 milioni di euro. La lente d'ingrandimento dei finanzieri si è soffermata su una società formata da due coniugi di Caltanissetta risultata essere completamente sconosciuta al fisco in quanto non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale nonostante la stessa avesse effettuato negli anni consistenti operazioni di sdoganamento di prodotti ittici per diversi milioni di euro. Le preliminari attività ispettive facevano emergere che i due soci coniugi di cui uno con il ruolo di amministratore della società si rendevano irreperibili in Italia gestendo di fatto l'attività dalla Tunisia che alla sede legale dichiarata non era tra l'altro che un mero recapito coincidente con l'abitazione di un loro familiare. Atteso che non c'erano libri, registri e altri documenti fiscali, i militari del corpo hanno proceduto alla ricostruzione del volume d'affari conseguito negli ultimi quattro anni attraverso una stringente collaborazione con diversi uffici doganali italiani presso i quali la società aveva espletato le formalità di sdoganamento acquisendo copie delle relative bollette doganali. Dall'esame della documentazione doganale è stato possibile risalire sia i soggetti vettori che si erano occupati dello stoccaggio, del trasporto e della consegna della merce importata nonché denominativi dei diversi clienti finali destinatari della stessa. L'ausilio di specifiche banche dati in uso al corpo, quali quella delle dogane, merce e dello spesometro permettevano l'individuazione di altri clienti dai quali sono state acquisite le diverse fatture di vendita emesse dalla società negli anni di imposta controllati. La quantificazione analitica per categoria omogenea della montata dei prodotti ittici importati di quella venduta, peraltro documentata dalle fatture emesse e reperite ha permesso alle fiamme gialle nissene la ricostruzione e la determinazione della merce ittica movimentata la completa constatazione degli elementi di reddito e vasi nonché la ricostruzione e la determinazione delle imposte che la società aveva occultato e sottratto a tassazione avendo sia omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali annuali che la tenuta e conservazione della contabilità obbligatoria. L'attività di verifica esperita dal reparto del corpo permetteva di rilevare una sottrazione all'imposizione fiscale ai fini IRPEF ed IRAP di ricavi dalle vendite non dichiarati per 4 milioni e mezzo di euro e una accertata evasione fiscale di oltre 1 milione e 200 mila euro di cui 400 mila euro di IVA e 800 mila euro per IRPEF sottratte alle casse dell'erario. A conclusione dell'articolata e complessa attività di verifica espletata in relazione all'ammontare delle imposte evase e quantificate veniva tra l'altro effettuata nei confronti dei coniugi nisseni soci della società la segnalazione all'autorità giudiziaria per i reati penali e tributari di omessa presentazione della dichiarazione fiscale annuale ed occultamento della contabilità nonché proposta l'applicazione della misura del sequestro per equivalente. L'autorità giudiziaria inquirente interessata a conclusione delle indagini preliminari avviate avvalorava in toto l'impianto accusatorio segnalato dal reparto operante e citava in giudizio nel processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Caltanissetta i due coniugi soci della società. Grazie. 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 Grazie.